Dal profilo Facebook di Maria Di Nolfi, il 12 agosto del 2024. Una piccola storia ignobile. Il 19 marzo è la festa del papà. Nell'appartamento di Via Valdonica a Bologna, mamma Marina aspetta con i figli Francesco e Lorenzo il rientro serale dal lavoro del marito. Per celebrare la ricorrenza c'è anche una torta. Lorenzo fa la seconda media, ha 13 anni ed è impaziente di raccontare al padre la gita scolastica che in giornata lo ha portato a Mantova. Quando sentono il padre arrivare in bicicletta dalla stazione, dalle finestre di casa sentono anche concitazione e poi sei colpi di pistola a rimbombare sotto il porticato. Così è stato ucciso a 52 anni Marco Biagi dalle nuove Brigate Rosse. Marco Biagi aveva la colpa di essere un esperto gius lavorista, consulente del ministro del lavoro del governo Berlusconi che era allora Roberto Maroni. A lui si deve la riforma del mercato del lavoro nota come legge Biagi, approvata nel 2003, un anno dopo la sua morte. Nel 1999 lo stesso gruppo aveva ucciso un altro gius lavorista, Massimo D'Antona. La firma usata nelle rivendicazioni era Brigate Rosse per la costruzione del partito comunista combattente, comparsa anche negli omicidi di Ezio Tarantelli, Lando Conti e Roberto Ruffilli. A sparare materialmente contro Marco Biagi e contro Massimo D'Antona fu Mario Galesi, brigatista intercettato dagli agenti della polizia ferroviaria il 2 marzo 2003 sul treno a Roma-Firenze, uccidendone uno, Emanuele Petri, ferendone un altro, Bruno Fortunato, che però, pur colpito al fegato e al polmone, fece in tempo a rispondere al fuoco uccidendo lo stesso Galesi e arrestando la sua complice Nadia Desdemona Lioce. Nel corso del 2003, grazie alle informazioni trovate sul palmare della Lioce, l'intera banda armata fu smantellata. Tra gli arrestati la quarantenne Cinzia Banelli vuotò il sacco e raccontò tutto sull'assassinio di Marco Biagi, del cui comando omicida aveva fatto personalmente parte. La Banelli raccontò dei pedinamenti durati settimane per annotare tutte le abitudini di Biagi e le sue tempistiche di spostamento. Soprattutto la banda aveva notato che a Biagi, nel novembre 2001, pochi mesi prima del tragico 19 marzo 2002, era stata revocata la scorta. Citazione Biagi si sentiva in pericolo e aveva fortemente protestato per quella revoca. Il ministro dell'interno lo definì per questo un rompicoglioni. Il capo della polizia avvallò dalla decisione di privarlo della protezione. Per l'assassinio di Marco Biagi in primo grado sono stati condannati nel 2005 all'ergastolo cinque terroristi. Nadia Desdemona Lioce, Marco Mezzasalma, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi e Simone Boccaccini. Cinzia Banelli, per via del pentimento, ha avuto 15 anni, ridotti a 10 in appello nel 2006, come la riduzione a 21 anni di reclusione è stata operata per Simone Boccaccini. Sia per Banelli che per Boccaccini la pena ridotta è stata confermata nel 2007 in Cassazione. Per Boccaccini, insieme a una condanna per associazione sovversiva a cinque anni e otto mesi relativa all'assassinio di Dantona. Nel 2009 la Banelli è uscita dal carcere, ha ottenuto per la legge sui pentiti una nuova identità e uno stipendio. Ha fatto perdere le sue tracce. Simone Boccaccini ha lasciato il carcere di Alessandro e delibera nella sua abitazione fiorentina. Il figlio di Marco Biagi, Lorenzo, ha protestato ieri sui giornali per questa scarcerazione. Citazione. Boccaccini libero? È come se avessero ucciso mio padre un'altra volta. Chiusa la citazione. Il processo contro chi ha revocato la scorta a Biagi è finito in prescrizione nel 2015. Nel 2010 intanto Bruno Fortunato, l'agente della polizia ferroviaria che aveva ucciso l'assassino di Biagi e arrestato pur ferito Nadia Desdemona Lioce, si è sparato un colpo in testa. Aveva affermato dopo aver visto un'intervista ai familiari di Aldomoro «Hanno detto che nessuno si è più ricordato di loro e neppure gli amici si sono fatti più vivi. Accade anche a me». Fortunato aveva come Biagi 52 anni, entrambi avevano mogli e figli, entrambi sono stati lasciati soli da uno stato come quell'italiano che non ricordi i suoi martiri e preme i loro assassini che non offre né protezione né giustizia. Almeno noi proviamo a tenere accesa la memoria.